bello a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video come sempre sono in compagnia di shark 13 it's e oggi mangiamo una pizza si shark ti ho portato da mister cheese finalmente mangiamo una pizza esattamente aiuto dove fanno la pizza più buona del mondo aiuto che cosa c'è che cosa con dove vedi il sangue è morto e guarda guarda dalle pareti che fa che quello è pomodoro che dove vedi dove vedi il sangue il sangue formato tonde i tondi con un picciolo shark si io guardano io non ho parole per disegnare aspetta io prendo il montacarichi intanto anzi prendo l'ascensore per vedere mister cheese cosa sta facendo magari stava preparando qualcosa di buono apposta per noi non ci sta niente da comprare attenzione entra entra cosa entra non ho capito no entra tu rischio aiuto aspetta ah no era finto attenzione entra il tuo rischio si infatti qui subito mister cheese ci ha detto che qui comanda lui quindi bisogna stare molto attenti io qui già ho perso un pochino di vita shark sempre dritto dove vorresti andare ecco ti sei tu si sei tu perfetto attenzione qui attenzione mamma mia non lo so no tu sei troppo troppo fortunato ok perfetto ok easy tira qui per attivare le piattaforme non vorrei che fosse a tempo di qua di qua shark corri 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 di qua ci sei noi purtroppo non sono flash e allora dovrò affrontare mister cheese da solo morto mannaggia ecco di shark sempre a dire queste banzicola vai avanti per favore ma c'è il contatto qui pesati no è no non c'è il contatto che è bello ti devi sempre togliere dalle scatole ok tiriamo questa qui per abbassare la scala schiacciato chi ha schiacciato e quindi presumo che sei morto perfetto da che ce la faccio oh ok ma qua non mi avevi detto che ci stava pure spongebob sì shark c'è anche spongebob ci sta la spatola di spongebob attenzione qui perché io mi infilo qui non mi piace le frecce shark tutta a sinistra ecco mister cheese mister cheese qui aiuto ma io non sono un topo non voglio il formaggio aiuto bombo fregato 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 guarda 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 mister cheese mi sta guardando perché riguarda perché ce l'ha come ma che vuole io non gli ho fatto niente infatti ti guardo ma con te riguarda perfetto ma non ma eccolo il cheese il formaggio morto perfetto sono morto anch'io a me mi ha preso il check mentre sono morto le tue fortune non hanno limiti camiseria che fico ok il caso dopo è fighissimo qui io non riesco a superare ecco superato perfetto che cos'è questa questa è un'illusione ottica ecco sono arrivando qui mazza che brutto ragazzi guarda quale a vivi tutto tutto niente dura un sacco dura un sacco e si muove a fini di sotto e ma l'acqua è solito non si capisce perché ah no perché ce n'è poca di acqua così o fosse ghiacciata ok nella base segreta shark dobbiamo entrare anzi tu già sei entrato però non mi aspetti ma io invece ti aspetto se io ti aspetto sempre it's non dire pazziccoli potresti dire ci sta una cacchina ci sta una cacchina sì va bene sciacqua bene così ci sta una piscina che cosa è questo sangue me sa che questo mister cheese è tutto tranne tranne che un pizzaiolo infatti magari un macellaio magari un macellario di persone umane aiuto che cosa per un attimo sono diventato superman sì perché guarda qui andiamo a su dritti verso la luna io abbiamo finito il gioco non abbiamo finito proprio niente certo ma cosa stai dicendo perché dici queste pazze con le sciacche ok bisogna fare il bucce semplice abbiamo finito il gioco che è in dritti su per il tetto che facciamo i pacman di notte qui io cerchi prima di entrare in questa foresta al contatto come c'è il contatto e ti sentirei ok sciacchio prendere quest'arma qui di prendere questa bella spada che si trova qui tu vede tu non l'hai presa io l'ho presa la spada ecco ecco vini perché ti faccio vedere dove sei andato a sento proprio diretto nel bosco eccolo aiuto aspetta 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 come faccio seminarlo e aspetta un attimino che sono a quanti impegnato forse quella luce riuscita a salvarci un po ecco mister mister formaggio l'abbiamo seminato quindi dire che siamo arrivati a conclusione di questo gioco prima però vorrei provare prima questi giochini perché non si muove c'è che mi potessi spingere per favore siamo rientrati in classifica un po no perfetto che bella il tappeto elastico il mio preferito ma niente di che niente che pensavo fosse molto meglio invece qui lo scivolo scivola 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 non scivola invece da qui scivola io vado sul tappeto elastico sì anch'io aspetta non fa niente è fatta così poco salta salta poco quella come sono veloce ora sì che sono flash ma questa è la velocità ma guarda 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 ma affrontò affrontò la fretta mamma no porcaccia miseria e sono morto shark che è successo io sono finito di una cosa maggiore cioè qui c'è la velocità la velocità 150 qui invece cosa abbiamo a per per saltare ok no 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 dove mister cheese ma qui non no aspetta porca miseria e va bene ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto lasciare un bellissimo like ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale ciao ragazzi ciao